Chi parte è sciacca 0-4 il Liverpool, seconda giornata. Va bene. Oh si, bravo. Uno viene incontro, no? Che bravo. E' tua, Luca! E' il numero 5. E' il numero 5. Ma no, i fischi, studino! Si, è mancata niente. E' arrivata da qui. No, basta da me. La palla, va bene. No, che ora è solo. Rimane la procedere. Con me bloco. Sì. 5, Chicken. Sponti. 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 Va bene, ragazzi. Passa, andrà al Liverpool in vantaggio. Occhio! La fai, guarda! Dicelo, dicielo! È rossa, è rossa! Mamma mia, cominciò! Vado, vado! Vado, vado! Vado, vado! Vado, vado, vado! Vado, vado! Vado, vado! Vado, vado, vado! Vado, vado, vado! Non lo segue! Vado! Non lo segue! Bravo! Non lo segue! Attenzione! Ancora, ancora! Sì, fai! Tira! Fino ad oggi particolarmente non capisco perché bravo Fai c'è dietro lui, c'è dietro che sono fuori lui c'è dietro lui c'è dietro lui c'è dietro lui bravo 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 Però no, lo metti in piede, però. Vieni, vieni, vieni. Ok. Giocava, caldo. Balla, in tempo. Vici, taglia lui, taglia. E prendi il tuo cuore. Mano, mano. Ok. Don, pianta a piede. È il tuo. Balla al primo e vai dall'altra parte. Vai dentro! Ehi! Funziona! Non so che go, via! Ma sempre gioco pericoloso, è l'abitato. Si sa capire. Ma l'abitato. Grazie. Vieni, vieni. Manu sali, Manu vai libero, qui ti lancio, cambiamo, cambia, cambia tutto, pre, uomo, ma' la arriva? Adesso è uno e! Vieni vieni! Vieni, vieni, vieni. Ssh. E' sinistro Marco, è sinistro. E' sinistro. E' sinistro. Stendiamo, dai. Luca è tuo. Vieni davanti prima, prima. Vieni in casa. Vieni in casa, bravo. Vieni, vieni! Corchiamoli fuori! E' sinistra. Vieni davanti. Così, così, dai, dai, dai. Non male! Che si, uomo! Che si! No, c'è sempre un anno. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Sì, 7-5. Bella partita, sì. Un'unica pecca, giocano troppo sbilanciato. La Fiorentina. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Uno, non ti passa. Ciao, ciao, ciao. Stai arrivando, vado. Ma chi è? Guarda, lo so, scusi. Ciao, ciao. 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 Ciao. Ciao, ciao. Come è blu? Allora, è blu! È blu, è blu! Va bene, non fai niente! Facci! Facci! C'è qua, non è questa di... non è rimessa la terapia, si possono mettere anche fuori perché c'è il discorso dello spazio, è estrello. Solo quella, poi le regole sono tutte da calciacino. No, così! Non vado a prenderla, però! Accorcia la distanza! 2-1 Liverpool! Se stiamo vicini, dobbiamo fare girare! Fatti vedere, lui accende! Cazzo, bravo così, va bene così! Continua, cazzo! Uomo! Manu, sali! Non c'è, Manu! Non c'è, Manu! Non c'è, Manu! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! Sì! Manu, sali! Manu, sali! Manu, sali! Non c'è, mani! Non c'è, Manu! Non c'è, Manu! Non c'è, Manu! Non c'è, Manu! salio mano sinistra bravo 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 taglia bravo 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 sinistra Ancora Favet completata la rimonta dello Schalke, 3-2 Non ci rilassiamo, ti fanno così No, adesso ci senti, dai Arfettiamo Temporeggiamo, ti sei staccato Vado, vado Di dov'è? Di qua Sali, sali Dai, faccio Vado, vado Seguilo Tira Vado 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 Zonoreto diciamo Fuori, fuori Ma che sangue dai cambio No, non ha fitto Però non ha fitto No, no Non può passare Sono in un piccolo attico Pizze Calabria Temperatura è mia Quanto è 4 a 2? Per il blu Iniziavano 2 a 0 Ma te lo senti tu qua? No, no Mi sono messo qua tipo No, ma ora sta sempre entrando un gestore E lui lavora diciamo No, è dei titolari Che adesso stanno Uno 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 a sinistra 3 persone Ardizio il quaderno non è stato nemmeno invitato ma non per gli altri, solo per una persona che era il capitano quindi per questo e tra l'altro mi chiamò in estate no, sta invitando tutti un torneo con lui tu considera che sta facendo un torneo da un'altra parte non so dove, perchè manco ci ha fatto sicuramente quello di Giangreto è l'auditore ha chiamato a tutti quelli delle officine terzo pure insieme a Patellaro e tutti questi però io non penso che già Matteo ci andrà poi non lo so viva una cosa è cerca, siamo più tranquilli ma però è certo pure che si abbassa il livello si, vabbiamo il livello 5-2 tirato piano regole premi no ci sono novità in meglio sembra dato che è da valutare questo stai dai hai un po' hai un po' Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. 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 Non è vero, non è vero.